Nuova puntata della Notizia in Comune. Benvenuti e do il benvenuto anche al dottor Luca D'Alterio, kinesiologo clinico. Benvenuto. Salve. Allora, innanzitutto cominciamo a stabilire. Kinesiologo, la parola mi sembra che suggerisca forse dal greco il movimento, forse la scienza che studia il movimento? Assolutamente sì, assolutamente sì. La kinesiologia studia tutto quello che riguarda il movimento umano a 360 gradi, non solo per quanto riguarda un'efficienza fisica in soggetti normali, ovvero che non hanno patologie, ma anche in ambito patologico, perché ad oggi quando c'è una patologia si tende a prendere in esame per appunto solo la patologia, senza tenere conto che il movimento deve essere inteso come terapia. Ecco perché poi anche la mia metodologia MVM Therapy prende proprio il concetto di movimento terapia. Ad oggi anche quando abbiamo una patologia vertebrale o il mal di schiena, che è la cosa più comune in assoluto. E anche quella più invalidante per certi versi. Spesso invalidante, perché spesso abbiamo anche delle patologie vertebrali che vanno in combinazione con il mal di schiena. Noi dobbiamo comunque capire come il paziente si muove, come funziona il paziente dal punto di vista muscolare, articolare, dal punto di vista tendinio, ma anche metabolico. E quindi la kinesiologia ci aiuta in tutto questo. Non dobbiamo solo pensare che una patologia può essere migliorata attraverso il farmaco, attraverso l'intervento chirurgico, che talvolta può essere necessario, ma non è l'unica via percorribile. E quindi il kinesiologo si occupa proprio di terapia del movimento, ovvero cercare tutti quei fattori che contribuiscono a portare una patologia, a peggiorare una patologia e quei fattori che permettono anche di migliorare la patologia stessa. Allora, quando parliamo di patologia, visto che la kinesiologia affronta l'intero corpo umano, abbiamo parlato di movimento dell'intero corpo umano, a cosa ci riferiamo in particolare? Quando parliamo di patologie vertebrali ci possiamo riferire all'ernia del disco, ad esempio, che l'ernia del disco è molto comune. Spesso, quando parliamo di ernia del disco, subito si crea una fobia, ok, o l'ernia del disco mi devo operare o devo utilizzare farmaci. Siamo anche questo mito dell'operazione, perché da più parti ho sentito, anche persone esperte che hanno detto, in realtà l'operazione tra l'altro non sempre è risolutiva e spesso il mal di schiena in alcuni casi si risolve con terapie virate del movimento. Sì, perché l'ernia del disco spesso è legata a dei fenomeni di degenerazione fisiologica, ok, quindi se prendiamo una persona dai 40 anni a salire, quasi sicuramente presenta l'ernia del disco o comunque una degenerazione fisiologica a livello vertebrale, che non è detto che sia patologica. Quella persona può non avere dolore nonostante l'ernia del disco. Talvolta c'è l'ernia del disco che attraverso una compressione di una radice nervosa può portare determinati segni e sintomi e quindi anche dolore. Però anche in quel caso bisogna tenere in considerazione che il dolore è multifattoriale, non è legato solo alla singola patologia, ma è legato anche a come viviamo, a tutti i nostri fattori, si dice, biopsicosociali, tutti i nostri fattori biologici, sociali, culturali, perché se noi siamo stressati ovviamente questo incide sulla sintomatologia. Se noi siamo soggetti sedentari, metabolicamente non siamo efficienti perché ci nutriamo male, tutto questo ci porta infiammazione. Quindi la terapia deve essere a 360 gradi, ecco perché spesso un intervento chirurgico non basta se alla base abbiamo comunque delle disfunzioni legate al movimento, legate al metabolismo, legate agli ormoni, a fattori psicologici, perché poi non è da trascurare tutto quello che è anche la sfera psicologica. E quindi quando parliamo di patologie, parliamo sia di patologie vertebrali, ma anche di patologie endocrine, metaboliche, che possono poi portare ad esempio anche osteoperosi. La terapia del movimento, in cosa si concretizza? Innanzitutto il paziente come viene visitato, valutato dal kinesiologo? Il kinesiologo fa una valutazione in base alla patologia di tutti quei movimenti che praticamente il paziente non riesce più a fare. Perché? Perché cosa fa il sistema nervoso centrale? Nel momento in cui abbiamo dolore… Va in protezione. Esattamente, va in protezione e non ci fa fare più quei movimenti che pensa possono essere nocivi per noi e di conseguenza non ci fa fare più quei movimenti. Il problema qual è? È che non è che perdiamo solo i movimenti, anche l'attivazione muscolare viene persa. E la cosiddetta combinazione neuromuscolare viene persa e quindi tendiamo a peggiorare i sintomi, proprio perché manca questa combinazione neuromuscolare. Quindi è come se quella parte muscolare legata poi al movimento viene persa. Quindi tutto quello che non viene più utilizzato si perde e la patologia aumenta. Quindi come interviene il kinesiologo? Allora fa l'anamnesi veramente del paziente? Sì, si fa un'anamnesi, si raccolgono tutti i dati, si guardano anche i referti, le varie visite specialistiche che sono state fatte e da lì poi si prescrivono degli esercizi mirati proprio per recuperare la funzionalità motoria persa in relazione alla patologia. Ecco, ad esempio nella società contemporanea alcuni movimenti vanno persi oppure alcuni vengono fatti in una maniera forse sbagliata per cui poi si scatenano delle infiammazioni. Come ripristinare il giusto equilibrio? Allora il giusto equilibrio, come ho detto prima, va ripristinato a 360 gradi. Che cosa significa? Perché noi non possiamo pensare di migliorare un'efficienza motoria, una forza muscolare senza anche migliorare la composizione corporea e la composizione corporea la possiamo migliorare solo attraverso un approccio nutrizionale ben mirato, attraverso anche una visita specialistica con un medico esperto in medicina funzionale, ad esempio, che si occupa di tutto quello che è anche l'assetto ormonale. Quindi oltre all'efficienza motoria ci vuole un background da punto di vista anche di altri specialisti. Di multidisciplinare. Assolutamente sì, che non può essere messo da parte perché come ho detto prima il dolore, una patologia spesso è multifattoriale più delle volte, non è legata solo a un singolo fattore. Basti pensare pure a tante persone che si allenano in palestra, allenandosi in palestra iniziano ad avere mal di schiena. Perché? Perché si allenano male. La palestra è terapeutica, deve essere terapeutica, ma deve essere fatta in maniera tale che si sposa perfettamente con la funzione del soggetto. Anche col fisico del soggetto. Assolutamente sì. Un altro aspetto interessante, ecco spesso la figura del kinesiologo può essere confusa con altre tipologie, il fisioterapista, lo specialista di terapia, invece ha una sua peculiarità che resta e che riguarda il movimento, ma non solo, vero? Sì, il kinesiologo è quello che studia il movimento umano, è lo specialista del movimento umano, quindi praticamente è lo specialista dell'allenamento anche in ambito patologico. Non fa altro che adattare un'attività motorea all'aspetto patologico e quindi nel momento in cui arriva un paziente che ha un contributo patologico, l'attività motorea deve essere adattata in relazione alla patologia, alla sintomatologia del soggetto. Lei ha parlato in maniera anche molto opportuna, non soltanto di patologia, ma probabilmente intervenire prima che surga una patologia e quindi occuparsi proprio del corpo umano, a prescindere, probabilmente può servire, no? Spesso si parla di medicina predittiva, si parla di situazioni per cui intervenire ancora prima che possa svilupparsi una patologia. Fare prevenzione. Fare prevenzione. Fare prevenzione è importante. In questo senso com'è l'utilizzo sempre di una pratica come la chisegno? Allora, diciamo che noi oramai siamo tanto farmacodipendenti, ok? Quindi il concetto di prevenzione... Perché un po' avvenenati, tra l'altro. Certo, il concetto di prevenzione ad oggi, nel 2024, nonostante le tante conoscenze, la tanta informazione che c'è, viene sempre messa da parte. La prevenzione come si fa? Si fa attraverso una consulenza specialistica dove, anche se non si ha dolore, bisogna comunque cercare di prevenire il dolore comprendendo quali sono quelle funzioni, motori che si stanno perdendo. Perché spesso una persona che non ha dolore dice, ok, io sto bene, non ho bisogno di andare da uno specialista. In realtà, come si fanno gli screening per prevenire tumori e altre patologie, bisogna fare degli screening anche per evitare patologie ortopediche, patologie vertebrali. È una struttura, no? Ecco, a chi si rivolge al kinesiologo? Bambini, adulti, donne, uomini? Ecco, ad esempio? Allora, in MWM Therapy Center, che da poco abbiamo inaugurato… Eh, magari lo diciamo a chi ci segue, a fine ottobre l'avete inaugurato. Abbiamo aperto un nuovo centro nel cuore di fuori grotta, via Fabio Massimo 58, dove tutto è incentrato sulla kinesiologia. E ci discostiamo un po' dalla classica riabilitazione, perché il mio concetto di riabilitazione, di rieducazione motoria, non è più inteso come il classico massaggio o terapia passiva. Ma qua c'è tutto… il paziente gioca un ruolo fondamentale. Esattamente, il paziente deve lavorare. Deve lavorare, insomma, deve sudare. Esattamente, infatti tanti pazienti che vengono, che sia adulti, che sia adolescenti, anche gli adolescenti ad oggi hanno problematiche fisiche, ahimè, si ritrovano comunque a riscoprire nuove consapevolezze, non solo motorie, ma anche emotive, psicologiche. Perché? Perché si ritrovano poi davanti a una realtà, ovvero che non riescono a fare determinate cose. Magari anche movimenti quotidiani, che dovrebbero essere fatti in maniera naturale, non riescono a farli. La chinesiologia applicata magari a impedimenti come, non so, trami, oppure a malattie neurodegenerative. Ecco, quanto conta, come dire, piegare il corpo alla propria forza di volontà? Allora… Perché mi sembra di aver capito che il suo è anche un discorso molto psicologico. Assolutamente, sì. Assolutamente, la volontà o comunque l'aspetto psicologico è positivo, aiuta la guarigione. È la chiave di tutto, soprattutto in pazienti che hanno dolore cronico e patologie importanti, anche in ambito neurologico. Noi lavoriamo molto nell'ambito neurologico attraverso la terapia del movimento. E spesso in questo campo la medicina arriva fino a un certo punto. E quindi il paziente perde anche un po' la motivazione, perde quella voglia di migliorare. Allora, quando viene da me a fare terapia, la sfera psicologica è importante, che deve essere combinata ovviamente all'attività motoria che gli permette di progredire, perché le due cose vanno di pari passo. Se il paziente non progredisce, noi riusciamo a dargli anche una motivazione. Se gli diamo una motivazione, la dobbiamo anche giustificare con un progresso a livello motorio. E quindi anche in ambito neurologico, ovviamente un po' più complesso, dobbiamo trovare quella combinazione perfetta tra sfera psicologica e attività motoria. Perché, come ho detto, il paziente che si ritrova ad avere delle patologie importanti perde quella voglia di voler migliorare. Ma anche pazienti che hanno dolore cronico. Perché fondamentalmente la paura del paziente e dell'essere umano è la paura del dolore e la paura di cadere. Esattamente. Sono i due, penso, i due concetti. E qui ci colleghiamo alla kinesiofobia, che è la paura di muoversi. La kinesiofobia è molto comune nei pazienti che hanno patologie e dolore cronico. Perché ci riagganciamo al discorso di prima. Il nostro sistema... Sì, perché io voglio far capire anche a chi ci segue che in realtà è cambiato completamente il passo. Prima si diceva che devi stare fermo. No, no, no. Invece è proprio tutto il contrario. Esattamente. Le terapie per la guarigione, amici che ci seguite, è proprio il contrario. Oggi il nuovo approccio è il movimento. Esattamente. Ad oggi purtroppo quando ci sono anche dei mal di schiena invalidanti, si tende a dire no, devi stare a riposo. Mamma mia. E quella è la tomba finale. Ecco, amici che ci seguite, ascoltate il dottor D'Alterio. Bisogna muoversi. Perché nel momento in cui noi decidiamo di non muoverci più, il nostro sistema si adatta. Per quello che abbiamo detto prima. Esattamente. Si adatta. Si adatta e non ci fa fare più movimento. E noi iniziamo ad avere paura di muoverci ed entriamo in un circolo vizioso. Mi fa piacere questa sollecitazione perché spesso in pazienti anziani, io ho notato questo, dopo una caduta, proprio ho avuto esperienza diretta, ho visto pazienti che si sono messi a letto e non si sono più mossi. Esatto. E quella è anche una causa di morte precoce perché anche pazienti un po' più avanti con l'età che soffrono di osteoporosi, quindi hanno una patologia ossea. quindi il kinesiologo aiuta anche queste persone a migliorare la densità ossea attraverso la forza muscolare. Perché questo è forse lo switch importante, cioè se tu rafforzi il muscolo probabilmente anche il dolore... Hai un transfer sulla densità ossea e ovviamente il rischio di cadute diminuisce perché sei più stabile nella posizione retta. Come istituzionalizzare la figura del kinesiologo? In strutture anche pubbliche, in strutture... Allora, il kinesiologo... Tante battaglie sono state vinte, voglio dire. Tante sì, sono state vinte, però il kinesiologo è quella figura che viene messa un po' in secondo piano perché ci sono altre figure che magari dal punto di vista legislativo hanno comunque uno storico più importante. La figura del kinesiologo adesso sta iniziando ad emergere un po' di più grazie a me ma anche grazie a tanti altri esponenti in tutta Italia, di cui io faccio anche portavoce fondamentalmente. Proprio per questo io anche con la mia accademia di formazione formo tanti kinesiologi in tutta Italia. Che percorso segue un kinesiologo? Qual è la formazione? Allora, c'è la laurea in scienze motorie e poi c'è la specializzazione anche in LM67 che permette al kinesiologo proprio di lavorare con l'attività motore adattata. E lì si lavora anche in ambito sanitario. Quindi ci sono alcune realtà anche ospedaliere in Italia che utilizzano il kinesiologo in questo campo. Però ad oggi è ancora una figura, come ho detto prima, che tende ad essere messa un po' da parte perché il movimento fa paura. Anche spesso in ambito medico, come ho ribadito prima, il movimento si tende a metterlo in secondo piano perché si tende a fortificare la terapia farmacologica, la terapia passiva, il massaggio, l'infiltrazione che può essere utile come integrazione. Però non possiamo non prendere in esame il movimento perché noi siamo fatti per muoverci, non siamo fatti per stare fermi. L'ultima domanda a chi ci segue in questo momento. La figura del kinesiologo è importante ed efficace in quale campo? Soprattutto se io dovessi consigliare. Per chi? Allora, la figura del kinesiologo è importante sia per prevenzione, quindi per cercare di prevenire tutte quelle patologie vertebrali, neurologiche, ma anche mal di schiena, cervicalgia, che ad oggi, ahimè, tante persone soffrono di cervicalgia. Ma anche perché ci sono le posture pure, perché chi come noi magari sta davanti a un computer così ha problemi veramente che coinvolgono tutta la colonna. Quindi bisogna imparare a conoscere il proprio corpo. Oggi le persone non conoscono più il proprio corpo, hanno perso la percezione del proprio corpo, la percezione muscolare. Il kinesiologo permette di riacquistare proprio questa percezione muscolare, questa percezione corporea, che deve avere un transfer poi anche in palestra, perché le persone devono andare in palestra, devono allenarsi in palestra, avendo però una buona percezione corporea muscolare. E poi il kinesiologo aiuta, come già ribadito, tutte quelle persone che soffrono di patologie vertebrali, neurologiche, ortopediche. Grazie, grazie dottor D'Alterio, è stato davvero illuminante, anche perché, come dire, veramente ci affacciamo verso un mondo da esplorare e soprattutto abbiamo capito una cosa importante in questa puntata, e cioè che il movimento aiuta non solo alla guarigione, ma anche a superare quello che fa paura a tutti, ovvero il dolore. Esattamente, il movimento è terapia. Il movimento è terapia. Grazie al dottor D'Alterio, grazie a voi che ci avete seguito e allora appuntamento alla prossima puntata. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.